La polizia di Stato ha arrestato una banda specializzata in furti in appartamento a conclusione di un'indagine coordinata dalla locale procura della Repubblica e svolta con l'uso delle tecniche tradizionali di controllo del territorio. Si tratta di due georgiani, Giorgi Caczice, 45 anni, e Marius Belovas, 30 anni, con precedenti di polizia per analoghi reati, colti nella fragranza di furto in abitazione in zona ospedale maggiore. I dettagli dell'operazione sono stati resi in mattinata in questura. I due risultati collegati ad altri con nazionali arrestati nei giorni scorsi in provincia di Udine sono stati trovati in possesso di attrezzi atti allo scasso e di un'autovettura intestata ad un rumeno intestatario fittizio di circa 200 mezzi. I malviventi sono stati bloccati dagli uomini della squadra mobile Giuliana mentre tentavano di allontanarsi dalla zona, venendo trovati in possesso di tutta l'area furtiva, monili, denaro, tablet e macchine fotografiche poco prima sottratta.